Cure monocronali al via a Pesaro parla al primario del reparto di subintensiva. Covid a Pesaro i contagi rimangono sopra quota 200, controlli intensificati nel weekend. Completati i lavori al nuovo bocciodromo si attende l'apertura. Giornata mondiale dell'acqua, marche multiservizi Aset unite nell'innovazione e contro lo spreco. Una buona serata a tutti i telespettatori di Rossini TV, il canale 633 del Digitale Terrestre. Bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale Rossini News. Subito in apertura parliamo di sanità perché dopo il recente annuncio dell'assessore regionale Salta Martini sono partite ieri dall'ospedale di Pesaro per la prima volta nelle Marche le sperimentazioni con gli anticorpi monocronali. Questa mattina il primario del reparto di medicina subintensiva, il dottor Gabriele Frausini, che ha seguito il gruppo di lavoro, ci ha raccontato com'è andata. Sono partiti nel pomeriggio di ieri dall'ospedale di Pesaro i primi trattamenti nelle Marche con gli anticorpi monoclonali, il cui arrivo era stato annunciato nel corso dell'ultimo consiglio regionale dall'assessore alla sanità Filippo Salta Martini. I primi a sottoporsi alla cura sono stati tre pazienti trapiantati di rene che di recente hanno sviluppato l'infezione da Covid e per i quali, vista la patologia di fondo, sono più elevati i rischi di sviluppare una forma grave della malattia. Prime infusioni che si sono svolte senza problemi, come racconta il primario di medicina subintensiva di Marche Nord, Gabriele Frausini. E' andata bene, siamo partiti ieri sera, abbiamo somministrato questa nuova terapia che è la prima vera terapia per i pazienti ambulatoriali, cioè pazienti che non necessitano del ricovero ospedaliero perché hanno una forma di malattia abbastanza lieve, ma che per tutta una serie di fattori di rischio che hanno immunodepressi, trapiantati o con patologie serie, ci aspettiamo che avrebbero potuto sviluppare una malattia anche severa. Questi pazienti verranno monitorizzati con la telemedicina, dovrebbero avere un calo della viremia repentino, si parla anche di 48 ore, quindi dovrebbero avere un decorso di malattia favorevole. Ci sono dei criteri stabiliti dall'AIFA che prevede tutta una serie di patologie che rendono questi pazienti fragili, i grandi obesi, i diabetici scompensati, i trapiantati, i pazienti neoplastici, i pazienti con gravi problematiche polmonari. Tutti questi pazienti pur avendo una forma lieve sono, come dicevamo, pazienti che potrebbero sviluppare forme estremamente severe per cui vanno trattati in maniera precoce. Precoce entro i primi 7-10 giorni della disorgenza dei sintomi. Ci sono delle prenotazioni, queste prenotazioni vengono per il momento da strutture ospedaliere che seguono ambulatoriamente pazienti estremamente fragili, arriveranno presto anche le richieste del territorio. È uno sforzo della Regione, del Presidente, dell'Assessore, della Direzione di Marche Nord e di tutti noi che ci stiamo occupando di questo maledetto virus ormai da più di un anno e vorremmo venirne fuori più presto. Questa è una grossa arma, speriamo che dia i risultati che noi ci attendiamo. Si parla di una riduzione del 70% dell'ospedalizzazione nei pazienti che vengono sottoposti a questa terapia. Gli anticorpi monocronali si apprestano ad essere dunque una nuova e decisiva arma contro il Covid, come evidenziato anche dal dottor Frausini, il quale ha però sottolineato la primaria importanza di sottoporsi alla campagna di vaccinazione, vista anche la riabilitazione delle dosi AstraZeneca. Il mio parere è un parere che non nasce da impressioni, nasce dai numeri. Quei pochi casi che ci sono stati, che non sono in relazione alla vaccinazione, ma sono avvenuti nel contesto di una vaccinazione, non ci devono assolutamente, ripeto assolutamente, forviare da quello che è il nostro grande scopo, di vaccinare tutta la popolazione per arrivare all'immunità di gregge. I numeri che ci dicono di queste trombosi sono assolutamente ridicoli e estremamente inferiori a quello che succede nella popolazione normale non vaccinata. E proprio in seguito all'annuncio dell'EMA relativo alla riabilitazione del vaccino AstraZeneca, nel fine settimana ripartiranno anche nelle Marche le somministrazioni per chi, già nelle scorse giornate, doveva ricevere la prima dose del vaccino. Tutte le persone che negli ultimi giorni hanno visto annullata la propria prenotazione saranno contattate per ricevere le indicazioni relative a giorno, luogo e orario del nuovo appuntamento. Il centro Monaldi, nel quale anche nell'ultima settimana non si sono mai interrotti richiami per chi aveva già ricevuto la prima dose Pfizer o Moderna, dovrebbe riaprire i propri cancelli per accogliere le nuove prenotazioni assegnate nella giornata di domenica. Si ricorda a tutti gli utenti interessati di seguire in ogni caso i dettagli e le informazioni che saranno comunicate telefonicamente dagli operatori preposti. Il recupero di tutti gli appuntamenti è previsto entro il 31 marzo. La pagina relativa agli aggiornamenti quotidiani sui contagi da Covid nel nostro territorio, il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.975 tamponi, 3.463 nel percorso nuove diagnosi, di cui 893 nello screening con percorso antigenico e 2.512 nel percorso guariti, con un rapporto positivi testati pari al 23,7%. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 822. Il numero più alto continua ad arrivare da Ancona con 279 nuovi casi, ma non si allontana di troppo il dato della provincia pesarese, con i 202 nuovi positivi segnalati. 9 il numero delle vittime notificate ieri sera, nessuna delle quali proveniva dai comuni del pesarese. Nel corso dell'ultima settimana sono stati effettuati oltre 3.000 controlli sull'osservanza delle misure di contenimento da Covid-19. Le violazioni accertate con la contestuale elevazione di sanzioni sono state 79. Questa mattina nel corso della riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia presieduta dal prefetto Vittorio Lapolla e allargata alla partecipazione dei rappresentanti della Capitaneria di Porto, della sezione della Polizia Stradale, delle autorità sanitarie, dei comandanti delle polizie locali dei comuni dell'Unione Pian del Bruscolo, Urbino e Fano, si è preso atto della crescita dei contagi sul territorio provinciale pesarese. Per questo motivo, con l'iniziare di un nuovo fine settimana in zona rossa, saranno ulteriormente intensificate le attività di controllo delle normative in vigore da parte delle forze dell'ordine, in particolare nei punti dove nello scorso weekend sono state riscontrate ingenti presenze di cittadini. E ora cambiamo pagina ma rimaniamo a Pesaro perché questa mattina è stato presentato il completamento dei lavori al nuovo bocciodromo. Prosegue quindi l'importante progetto di riqualificazione che interessa l'area di via dell'Acquedotto, nel quale si aggiunge quindi un altro polo importante per lo sport cittadino e non solo. Per l'inaugurazione e l'apertura ufficiale bisognerà attendere l'allentamento delle misure anti-Covid e di conseguenza la riduzione del numero dei contagi. Ma nel frattempo vediamo le prime immagini della struttura in questo servizio. Sono terminati i lavori al nuovo bocciodromo. Per l'inaugurazione ufficiale e l'apertura al pubblico sarà necessario attendere un allentamento delle restrizioni ad oggi in vigore per limitare la diffusione del Covid. Nel frattempo però sono stati presentati i risultati degli importanti lavori di riqualificazione messi in atto. Il nuovo bocciodromo è formato da due strutture, il fabbricato principale destinato alle attività sportive e da una parte più bassa che accoglierà al suo interno le attività collaterali del centro sportivo. L'edificio si sviluppa su un unico livello composto da quattro aree diverse. La zona gioco, quella riservata agli atleti, l'area ricreativa che comprende il bar con annessa cucina a dispensa ai servizi igienici e infine la zona polivalente, nella quale saranno sistemati biliardi e una sala da gioco. I lavori sono finiti, da ora in poi diciamo alla fase dell'allestimento, della parte del bar, della parte del gioco delle bocce con tutti gli arredi. Quindi ci tenevamo a ufficializzare questo momento alla città. Questo luogo come avete visto negli anni ha cambiato forma, ha cambiato veste e quindi sarà nei prossimi anni sicuramente un luogo molto frequentato, vissuto e vivo da tanti cittadini. Qui di fianco abbiamo la pista da pantrek, la pista da skate e quindi diciamo sarà un complesso sportivo interessante. Per quel che riguarda il bocciodromo avremo anche il privilegio di avere la sede della federazione provinciale così ci sarà la possibilità anche di ospitare tante competizioni. L'augurio è di lavorare sempre di più con questa struttura, anche con le scuole e di ospitare competizioni di carattere nazionale. Dopo tanti anni finalmente il territorio di Pesero, la FIB di Pesero può godere di questo nuovo impianto a cui noi tenevamo molto insieme alla società che si trasferirà qui e che lo gestirà e quindi noi confidiamo molto in questo impianto nuovo che sia un centro di oltre che di attività agonistica per la FIB ma anche di aggregazione sociale perché lo spazio ce n'è tanto e si presta molto anche all'attività di ludico e anche di socializzazione. Quindi per noi è un punto di riferimento, noi come FIB cercheremo di organizzarsi anche degli eventi di carattere nazionale perché come dicevo l'impianto si presta e quindi per noi è una notevole soddisfazione di poter usufruire di questo lavoro che il Comune ha messo in piedi per poter realizzare tutta questa struttura. Questo è un intervento che rientrava all'interno del progetto Bando delle Periferie che ci ha permesso, grazie alla cifra che il Comune è impegnato per la realizzazione di questo bocciodromo di aggiudicarci un bando nazionale molto importante di 11 milioni e 2 che ci porterà a riqualificare tutta questa zona che era una delle zone degradate della città. Vorrei ricordare che questo è un impianto di Valenza nazionale, quindi un impianto nazionale con quattro piste e ha una struttura tale che potrà essere anche rimodulato e metterci una pavimentazione sopra e potrà diventare anche un impianto per altre discipline sportive e accoglierà appunto un'area destinata al biliardo, c'è una bellissima tradizione a Concordia per il gioco del biliardo e l'area bar di oltre 200 metri quadri sarà a disposizione oltre ovviamente dell'impianto sportivo e del campo di voce anche di tutta l'area qui intorno. Quindi diventa una struttura sportiva, una struttura di servizio e una risposta importante che si vuole dare alla città. Nonostante le numerose critiche che si sono mosse, sembra che il bocciodromo fosse un modo per buttare via soldi pubblici, invece è diventata un'operazione per recuperare grandi risorse. A fronte di un investimento del comune di circa 1 milione e 700 mila euro ci siamo giudicati, ripeto, un bando nazionale di 11 milioni e 2 e siamo particolarmente orgogliosi del risultato che siamo riusciti ad ottenere. E parliamo ancora di progetti spostandoci però al San Benedetto perché dopo la presentazione dell'importante piano di riqualificazione approvato da Comune, Regione e Asur si è costituito il gruppo Tocca il Mur con l'obiettivo di raccogliere voci e proposte dei cittadini. La petizione lanciata online e il numero di iscritti al gruppo Facebook hanno raccolto dati importanti in pochi giorni, come sentiamo in questo prossimo servizio. Intervenire con grandissima urgenza al consolidamento e alla messa in sicurezza del tetto e delle coperture per evitarne il crollo e definire poi un serio progetto di recupero per valorizzarne la cifra storica e culturale. Sono queste le intenzioni alla base di Tocca il Mur, gruppo costituitosi di recente per raccogliere le voci e le proposte dei cittadini e contribuire al piano di rilancio del San Benedetto. Tra le figure che hanno dato vita a questa realtà compaiono il professor Roberto Vecchiarelli, lo storico Riccardo Paolo Guccioni, diversi architetti pesaresi e anche Ilva Sartini che ha scritto un romanzo ambientato proprio nell'ex ospedale psichiatrico. Siamo attualmente una ventina di persone, alcuni sono di varie associazioni ambientaliste, culturali, anche due partiti politici e alcuni come me non sono attualmente nessuna particolare organizzazione. è partito da vari soggetti contemporaneamente. C'era già un gruppo Facebook da tre anni fa, da quando il comune aveva messo un parcheggio dentro il giardino del manicomio che si chiama Roba da Matti, questo gruppo Facebook. Alcuni erano già da allora, insomma eravamo sensibilizzati a questo problema. Tutto a un tratto c'è stata questa notizia che a noi da una parte ci fa piacere che finalmente qualcosa si muove. Per noi innanzitutto bisognerebbe consultare anche i cittadini perché è un complesso enorme dove c'è dentro un parco, c'è dentro un edificio storico, un parco che poi ha anche una storia nel Cinquecento. Il nostro sogno era di fare un grande centro culturale, è nata anche una petizione che sta andando molto bene da Pierpaolo Loffreda, ma l'essenziale è che ci sia un progetto coordinato, ragionato e la parte del piano terra perlomeno rimanga accessibile. Non solo i giardini, ma anche che si possa attraversare, come era anticamente, da via Belvedere verso via Bambola Bella, c'è una strada addirittura e anche nell'altro senso che ci possa essere la comunicazione con il giardino del San Giovanni e con gli orti giuli, che sia uno spazio per la città, per i cittadini. Poi gli usi possono essere i più vari, perché è un complesso enorme, quindi ci possono essere usi anche sociosanitari, anche di istruzione, di corsi dell'università, si possono fare tante cose. Mentre vendere una parte ai privati, cioè nel progetto, questo fatto che si dà una striscia di case a schiera lungo la Bambola Bella ai privati, ovviamente questo ci piace un po' meno. Siamo venuti a conoscenza che era uscito un altro bando il 6 marzo, che parla di rigenerazione urbana per ridurre fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale, dove i comuni capoluogo possono avere fino a 20 milioni di euro. Questo permetterebbe di mantenere la proprietà pubblica e la fruizione da parte dei cittadini del complesso e di destinare questo complesso ad attività di carattere culturale, educativo e formativo. Sono pochi i giorni passati dall'avvio dell'iniziativa, ma risultano importanti i numeri di iscritti raccolti dal gruppo Facebook Tocca il Mur a Pesaro per il San Benedetto e dalla petizione annessa. Il gruppo sono superato i 250 membri e la petizione è 1.200 più o meno. La petizione basta cercare su avaz.org, salviamo l'ex San Benedetto, l'ex ospedale psichiatrico si trova. E dopo le immagini che vi abbiamo mostrato nel telegiornale di ieri che raffiguravano alcune località della Romagna imbiancate dalla neve, pare che il colpo di coda dell'inverno abbia interessato oggi anche la nostra zona. Il video che stiamo vedendo arriva da un telespettatore che in mattinata ha immortalato una brevissima precipitazione di pioggia stretta, mista a qualche fiocco di neve, nel quartiere di Borgo Santa Maria. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e il sindaco di Urbino Maurizio Gambini aprono la strada a forme di collaborazione tra le società partecipate dei due comuni. Parliamo quindi di Aspessi di Urbino Servizi in merito alla gestione dei servizi. Dopo un confronto approfondito insieme anche ai presidenti Luca Pieri e Giulia Volponi, stamattina i due sindaci hanno sottoscritto una lettera d'intenti che dà l'avvio a un percorso condiviso volto alla collaborazione sulla gestione dei servizi pubblici erogati dalle due società. E il progetto definitivo per l'ampliamento dell'Istituto di Istruzione Superiore Cecchi di Pesaro si è classificato al primo posto nella graduatoria 2020 del Piano Regionale Trennale 2018-2020 per l'edilizia scolastica della Regione Marche che prevede un finanziamento di 3.776.000 euro di fondi Miura per la realizzazione del convitto con 16 camere dislocate su due piani per un totale di 48 posti letto insieme a servizi igienici e spazi per attività collettive. L'annuncio è stato accolto con entusiasmo dall'assessore regionale lavori pubblici all'edilizia scolastica Francesco Baldelli e anche dal presidente della provincia Giuseppe Paolini. In occasione della 26esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie il Comune di Pesaro insieme alla presidenza del Consiglio Comunale e dell'Associazione Libera promuove per domani sabato 20 marzo alle ore 10 un appuntamento in streaming sulla pagina Facebook del Comune e sul canale YouTube con una lettura collettiva che coinvolgerà istituzioni, associazioni e studenti del territorio nel richiamare nomi e cognomi di 1031 vittime di mafia. E il 21 marzo si festeggerà la giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati. Tavulia, primo comune delle Marche ad aderire all'iniziativa, celebrerà la giornata con una manifestazione che si terrà domenica mattina alle 10.30 al parcheggio dell'entrata di Padiglione in strada provinciale Carrate. Nel corso dell'evento, al quale prenderanno parte le rappresentanze del Comune, verrà inoltre inaugurata un'opera dell'artista Giannino Calcagnini. A causa dell'assenza di pubblico dettata dalle restrizioni Covid, l'iniziativa sarà trasmessa online con una diretta Facebook nella pagina Francesca Sindaco per Tavulia. Ma le telecamere di Rossini TV saranno presenti sul posto e vi racconteremo proprio questo evento con uno speciale che andrà in onda la prossima settimana su Rossini TV. In caso di maltempo, invece, l'evento sarà rinviato. E in vista della giornata mondiale dell'acqua che si celebra il prossimo 22 marzo, Marche Multiservizi ed Aset hanno presentato questa mattina numeri e prossimi obiettivi che si riferiscono alle infrastrutture locali utili all'approvvigionamento idrico dell'intero territorio. Dati e interventi che necessitano però di essere accompagnati da corrette abitudini antispreco da parte dei cittadini. Vediamo. Ricorre il 22 marzo la giornata mondiale dell'acqua e questa mattina Marche Multiservizi e Aset hanno celebrato l'elemento base per la vita dell'uomo mostrando i tanti processi messi in atto dalle due aziende per garantire il corretto e funzionale rifornimento idrico di tutto il territorio. Punto di partenza per promuovere una vera cultura della risorsa idrica risiede nel mettere in atto quotidianamente azioni strategiche per prevenire gli sprechi. Una campagna di sensibilizzazione a cui si affiancano la ricerca di nuove fonti di approvvigionamento insieme ai lavori e agli investimenti dedicati alle infrastrutture già esistenti. Il messaggio che si vuole dare è della massima attenzione sia sui suoi consumi e ovviamente quindi un messaggio di razionalizzazione dei consumi per quanto possibile sia all'interno delle case, dell'industria e anche dell'agricoltura. Ma soprattutto il messaggio che si vuole dare è che comunque dobbiamo avere la forza, il coraggio di guardare avanti creando le migliori condizioni di approvvigionamento. Abbiamo una buona programmazione nel breve e medio periodo che comunque ci dà tranquillità anche se richiede impegni finanziari non indifferenti ma dobbiamo guardare oltre. Guardare oltre significa rendersi conto che il cambiamento climatico è già arrivato e quindi dobbiamo avere la capacità di guardare avanti creando infrastrutture che ci diano la tranquillità per il futuro e per le nuove generazioni. Tradotto, dobbiamo avere la forza, il coraggio dicevo, di fare delle scelte che guardano verso la creazione di un invaso che ci possa consentire di trattenere l'acqua quando piove con benefici anche ambientali perché questo aiuta anche l'insesto ideologico per allegamenti e esondazioni, trattenere l'acqua, avere dell'acqua da distribuire quando c'è la carenza di stiva e anche, voglio dire, produrre energia elettrica che è una fonte rinnovabile e quindi ecologica. Ci vuole coraggio però e tanti soldi, però quello che ci dice oggi l'agenda ONU, il recovery plan, si dice che ci sono delle possibilità e soprattutto credo che sia una transizione ecologica che dobbiamo cogliere proprio per recuperare le risorse ma anche fare le scelte giuste per le nuove generazioni. Già ormai da diversi anni la capacità di mettere a sistema una serie di attività quindi la pressurizzazione di alcune zone del nostro territorio all'interno del sistema perché parliamo di quasi 5.000 km di reti, di iniziare a fare delle campagne di sensibilizzazione nei confronti del cittadino sull'utilizzo e sulla riduzione dei consumi dall'utilizzo dei riduttori di flusso, le cassettine nei servizi igienici, la casetta dell'acqua proprio per avere comunque un impatto il meno possibile da un punto di vista anche della gestione delle acque imbottigliate. Quindi tutte azioni che vanno di fatti a portare dei benefici. Poi dall'altra parte abbiamo comunque messo in campo delle azioni di monitoraggio del nostro territorio, delle captazioni anche per il periodo estivo delle acque in falda sotterranea e rimane sempre l'altra grande azione che è la pulizia degli invasi esistenti e l'ultima che poi è stata lanciata in collaborazione sia con il gestore ASET che anche con l'ATO che è quella della pianificazione di un invaso per la raccolta delle acque piovane in zone che possono poi essere a disposizione del comparto delle aree interne. La questione da porre all'attenzione in questa giornata, la giornata dell'acqua, quindi una riflessione che tutti dovrebbero fare sulla gestione di questa risorsa che è sempre più preziosa. Il nostro ruolo è quello di festeggiare queste giornate tutti i giorni dell'anno perché tutti i giorni siamo preparati appunto e operiamo per cercare di garantire la migliore qualità, la quantità e le garanzie che debbono avere tutti i sistemi di approvvigionamento, smaltimento, depurazione e quant'altro. Quindi questo è il nostro obiettivo. E apriamo ora la pagina sportiva del telegiornale di Rossini TV parlando di Calcio 5 e quindi di Italservice. È in programma per domani pomeriggio il match contro la Cybertel Aniene che potrete seguire in diretta su Rossini TV a partire dalle ore 17. Nel frattempo però il presidente Lorenzo Pizza ha tracciato un primo bilancio di questa stagione, davvero insolita a causa delle restrizioni e dei cambiamenti dettati dal Covid e a cui i biancorossi si sono dovuti adeguare. Vediamo un'intervista. La squadra sta andando bene perché noi dopo una rincorsa turbolenta è importante, siamo adesso in testa della classifica, abbiamo rincorso per tutto il girone di andata a causa di una partenza non proprio al top e abbiamo rincorso, dicevo, l'acqua e sapone, l'abbiamo scavalcato e quindi adesso noi siamo primi a tre partite dal termine del girone di ritorno. E poi adesso inizia la parte più bella, diciamo, quello che è le finale di Coppa Italia che si svolgeranno a Rimini al Palazzetto dello Sport, lo Stadium 105, i play-off che sono il momento più affascinante e più emozionante di tutta la stagione. È un peccato, è un peccato perché comunque purtroppo questa stagione ormai è andata così senza pubblico, con i palazzetti vuoti, l'assenza del pubblico. Io l'ho sempre detto, i nostri tifosi sono il sesto uomo in campo, è veramente la spinta in più che ci dà quella carica, che dà la carica ai nostri giocatori per giocare al massimo e per vincere le partite. Però purtroppo è andata così, ci auguriamo la speranza che si possa un pochino allentare questa situazione e una parte di persone, una parte di pubblico possa iniziare a entrare nel Palazzo dello Sport, chiaramente con tutto il distanziamento possibile, con tutte le normative vigenti. Come è stato anche un po' dall'interno affrontare una stagione dove a volte non sai se giocherai quella partita, giocatori che potrebbero essere positivi, quindi anche da un punto di vista non solo fisico ma anche mentale, penso molto stressante, oltre comunque a far diventare magari la stagione un po' più complicata. Comunque abbiamo visto tante partite da recuperare, una classifica che a volte non era mai quella veritiera. Molto difficile, hai detto bene tu. È stato molto complicato e psicologicamente molto stressante, perché tu considera che noi sempre per normative FIGC e quindi di rimbalzo sulla divisione Calcia 5 dobbiamo fare i tamponi una volta alla settimana, 48 ore prima della partita. Quindi tamponi al di là del disagio di fare i tamponi noi, i nostri giocatori, e quindi un lasso di tempo dedicato per fare proprio fisicamente il tampone. Poi l'attesa, dobbiamo aspettare, quindi arriva l'esito del tampone. Quindi non sappiamo se quando abbiamo una trasferta per dire siamo andati da Avellino, fino a quando non avevamo l'esito dei tamponi non sapevamo se potevamo partire, prenotare l'albergo. E quindi ecco, tutte queste cose diciamo rallentano, ma più che rallentare ti mettono anche una carica di tensione psicologico, con uno stress psicologico importante. Noi ci siamo adattati in maniera splendida, poi noi comunque siamo molto ben organizzati come società e qui devo ringraziare il nostro direttore sportivo Marco Troilo, che ha fatto un ottimo lavoro, tutti i nostri dirigenti, da Giovanni Baldelli, Alberto Pieri, Moreno Bordoni, Lelo Ortolani, che comunque lavorano in maniera splendida, mia moglie, Simona, che comunque lavorano, seguono in maniera eccellente tutto l'iter burocratico. Quindi quest'anno si è aggiunto anche un tassello in più, l'iter sanitario. L'abbiamo fatto, ci siamo riusciti e comunque è stato un dispegno di energia grosso. E questa era davvero l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordiamo gli appuntamenti su Rossini TV. A partire già da questa sera in prima serata alle 21.15 potrete vedere questo speciale relativo a Domino Experience, una realtà che opera nel settore turistico e che vi racconteremo quindi con uno speciale dedicato questa sera alle 21.15. L'informazione torna puntuale domani mattina in diretta alle 7.20 con una nuova edizione della nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini. Alla conduzione ci sarà Marco Cadeddu. E poi, come annunciato poco fa, domani pomeriggio sarà protagonista su Rossini TV lo sport con un nuovo match dell'Ital Service Pesaro impegnata contro la Cyber Terraniene al Palanino Pizza. Potrete seguire questo match, questo scontro in diretta su Rossini TV a partire dalle 17.00 in diretta. E poi domenica sera alle 20.30 torna puntuale una nuova puntata di Wine and Luxury. Ospiti di questo nuovo appuntamento saranno il vicepresidente FIS Carlo Attisano, il cotitolare Terra di Gradara Loris Giunta, il bartender e produttore Giancarlo Mancino e infine il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi. Nuovo appuntamento quindi con Wine and Luxury domenica alle 20.30. Grazie per averci seguito anche in questa edizione del nostro telegiornale e vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini TV.